hello everyone rieccomi tornata con un nuovo video bene ragazzi allora sono tornata con un video annuncio speciale perché oggi voglio annunciare di un evento si ragazzo facendo il video con il microfono perché così l'audio molto più pulito e risulta un suono molto più bello e suave oggi vi parlo di un evento che ci sarà questo fine settimana venerdì sabato e domenica dove a roncadelle brescia e verona allora come la scorsa volta vi farò vedere passo per passo tutte le cose che dovete fare per prenotarvi perché questo qua sarà un neve saranno degli eventi esclusivi a numero chiuso per solo 60 persone ogni città avrà due eventi uno per esempio il pomeriggio e un altro dopo quindi due eventi a città due laboratori a città quindi due a roncadelle due a brescia due a verona questi due laboratori saranno di 60 persone quindi 60 una volta 60 un'altra volta quindi complessivamente 6 e 6 120 persone a città 120 persone che dovranno prenotarsi se volete affrettate perché i posti stanno per finire mi raccomando dovete andare sulla pagina di giustacchini io vi lascio comunque i link sotto in descrizione anche nel primo commento mi raccomando se siete interessati se volete venire mi raccomando andateci a cliccare allora io vi faccio vedere adesso dove dovete andare dovete scrivere su internet giustacchini eventi ok adesso vi faccio vedere vi faccio una ripresa anche dal cellulare così che voi possiate vedere le cose che io faccio eccolo qua giustacchini eventi ci vado a cliccare vado a cliccare sul primo link che mi esce di giustacchini eventi vi apre la pagina degli eventi dei negozi e dovete andare in fondo alla pagina se magari me la apre mi fa un piacere ok eccola qua proprio il primo evento che scendete giù c'è il mio il primo che è venerdì 7 dicembre dall'ore 18 alle ore 19 e 30 sarà quello di roncadelle ok poi sempre a roncadelle dalle 20 alle 21 e 30 sono due laboratori esclusivi vi volevo dire questa cosa purtroppo non per scelta mia ma i laboratori saranno a pagamento perché loro hanno voluto fare una cosa esclusiva perché in questi laboratori che vi elencherò roncadelle brescia e berona verrà dato a voi un kit della elmers per fare lo slime insieme a me in cui c'è in questo in queste queste tre date ci saranno anche i miei gadget comunque ve lo volevo dire se se li volete sarà un appagamento purtroppo vi ripeto non per mia scelta ma per la scelta dello staff comunque il primo di roncadelle sarà dalle 18 alle 19 e 30 il secondo di roncadelle sempre venerdì 7 dicembre dalle 20 alle 21 e 30 sono due laboratori da 60 partecipanti 60 e 60 andate come vedete schiacciate sull'evento stesso per esempio volete venire a roncadelle al primo schiacciate e vi riporta direttamente alla pagina per andarvi a prenotare se volete prenotarvi potete andare anche direttamente al negozio ecco qui c'è scritto tutto guardate per esempio qua è posti 1 quanti di voi siete non valgono gli adulti solo i ragazzi che parteciperanno quindi per esempio siete un ragazzo due ragazzi premete 1 2 3 a massimo tre persone ok perfetto questa non lo sapevo massimo tre persone nome adulto genitore affidatario questo importante nome cognome adulto email quindi qua dovete mettere i nomi dei vostri genitori non il vostro email password telefono nome cognome di chi parteciperà e farà il laboratorio con me quindi quanti quanti ragazzini siete 1 2 3 e mettete chi vuoi che venga intestata la ricevuta del pagamento scrivi il tuo codice fiscale scrivi l'indirizzo eccetera i dati bla 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 e questo qua invia la tua prenotazione ok ecco qua quindi facile quello la di roncadelle costa 24 euro perché al di fuori del kit ci sarà una pericena dove ci sarò anche io quindi ragazzi sarò presente a questa pericena in cui potrete stare di più insieme a me nei due di roncadelle mi raccomando poi torniamo indietro c'è appunto questo qua di brescia ok che il giorno dopo sia sabato 8 dicembre la mattina questa volta dalle 9 alle 10 e 30 ok a brescia il primo laboratorio stessa stesso procedimento cliccate sul link se volete venire a quello di della mattina per esempio e vi prenotate la mattina come ho fatto vedere a quello di roncadelle se volete venire invece dalle 11 alle 12 e 30 sempre a brescia cliccate su questo link qui che vi sto mostrando e vi prenotate qui poi c'è verona domenica 9 dalle 15 e 30 alle 17 sempre vi dovete prenotare ragazzi sempre questi sono a pagamento quelli di brescia e verona costano 15 euro sempre 60 e 60 60 e 60 ok 15 euro perché loro vi danno il kit della elmers ve lo ripeto poi il secondo laboratorio sempre di 60 persone dalle 17 e 30 alle 19 cliccate sempre qua sul link per prenotarvi vi sto facendo vedere come fare quindi vedete vale la stessa cosa per tutti quanti ragazzi perché ogni città due laboratori due due e due quindi avete più opportunità per farlo insieme a me questo qua 14 euro vedete ecco qua la stessa scheda da poter compilare ecco qua allora quindi in quello di roncadelle cosa in più costa 24 ma avrete con me anche l'opportunità non solo di fare il laboratore ma anche di fare la pericena quindi una cosa molto più intima mentre quello di brescia e verona faremo insieme proprio lo faremo noi insieme ci sono io che aiuterò voi a fare lo slime quindi non è come l'altra volta ma questa volta facciamo lo slime proprio insieme dove vi insegno e voi lo farete insieme a me spero di essere stata chiara per qualsiasi delucidazione potete scrivermi a me o a daniele oppure potete scrivere anche a giustacchini sulla pagina facebook o sulla pagina instagram che loro vi rispondono per qualsiasi chiarimento oppure potete chiamarli al loro numero telefonico che magari ve lo lascio qui in negozio così che loro possano diciamo possano risolvere ogni vostro dubbio con questo è tutto spero che io sia stata chiara per gli amici di roncadelle brescia e verona non vi preoccupate che prossimamente ci saranno nuovi eventi mi raccomando seguitemi sempre 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 ragazzi per incontrarmi perché tanto poi uscirà molto presto anche il nuovo libro così ci saranno nuovi firmacopie nuovi eventi sempre per poterci incontrare anche l'anno nuovo niente grazie mille a tutti per aver visto questo video anche per chi non è stato interessato a questo video non vi preoccupate ragazzi che molto presto ci potremo incontrare vi mando un bacione un abbraccio vi voglio bene come sempre ci vediamo domani alle 14 e 30 con un nuovo video bye